buongiorno amici buongiorno amiche credo che il titolo di questo video sarà mmb max 5.0 contro mmb max 4.0 oggi testiamo il 4.0 ma io ho avuto modo di testare anche il 5.0 quindi posso fare un attimo il punto della della situazione ora lo vedete qui con le pellicole ma comunque si vede lo stesso davanti c'è lo slot per la sim o per la micro sd o per entrambe qui dietro c'è una mini hdmi ok quindi già vediamo che manca tra virgolette lo slot per una penna usb ma c'è comunque la micro sd come vedete abbiamo 128 gigabyte di memoria interna 8 gigabyte di ram android 13 e il processore qualcomm del 4.0 è il 61 25 mentre nel mmb 5.0 c'è sempre android 13 ma il processore è 6 22 5 altre differenze non ce ne sono e anche il prezzo attualmente su amazon non differisce perché il 4.0 ad oggi costa 199 euro meno il coupon presente del 15 per cento stessa cosa per il 4.0 che costa 199 e c'è un coupon del 15 per cento quindi mi chiedo perché hanno fatto un 4.0 e un 5.0 quando sono praticamente hardware identico e praticamente il prezzo identico è un mistero che ad oggi non mi sono non mi sono sciolto anche perché poi hanno tutte e due android 13 quindi proprio sono veramente uguali e la differenza unica differenza di processore che pur sempre qualcomm passa dal 61 25 al 6 225 nell'uso pratico non è assolutamente non differisce in nessun modo questa diciamo è una che questa è la schermata principale che può essere personalizzata qui potete mettere le app che usate più spesso qui c'è android auto e carplay io attualmente sono condesso ad android auto wireless che funziona perfettamente previsioni meteo domani a tokyo a tokyo domani sarà nuvoloso con una massima di 24 gradi e una minima di 21 funziona l'assistente vocale funziona bene android auto wireless funziona tutto torniamo alla schermata del box quindi prima cosa importante che con questo box manterrete nella vostra automobile android auto wireless e carplay wireless sono funzioni che vi resteranno anche se lui il box una volta inserito nella vostra automobile sarà riconosciuto come un un accessorio come un dongle carplay quindi per la vostra macchina voi sarete connessi con un iphone anche se in realtà poi potete essere connessi con un iphone veramente oppure come nel mio caso con un android di la samsung per la vostra auto sarete sempre connessi con un carplay questo fa sì come nel mio caso che nella mia auto non possa visualizzare qua le copertine spotify e per telefonare non possa usare i tasti al volante ma debba utilizzare ad esempio la la funzione telefonica presente sul carplay o in questo caso presente su android auto ma questo non è diciamo una novità perché è così per tutti i box che ho testato quindi vengono riconosciuti dall'auto come se voi foste collegati con un iphone e quindi per telefonare dovete utilizzare le funzioni la funzionalità del box io non mi dilungherei più di tanto perché questi box le abbiamo visti hanno tutti più o meno le stesse caratteristiche lui in più ha il gps integrato e lo vediamo da qui perché in questo momento vedete stanno fixando i satelliti quindi lui ha integrato il gps maps per funzionare non ha non ha bisogno di utilizzare il gps dello smartphone e quindi consumare molta batteria dello smartphone perché maps utilizzerà io in questo caso non ho fatto il login ma qui visualizzerete la mappa con il gps sfruttato dal dal box e non dallo smartphone le caratteristiche tecniche le abbiamo viste prima qui potete mettere la lingua italiana lo facciamo insieme perché io l'ho da poco resettato e quindi ho lasciato la lingua inglese potete la cosa che vi consiglio è comprare una bella sim dati e inserirla qua nel box in modo tale che lui riceverà sempre i dati da la sua sim senza dover utilizzare il tethering dello smartphone è sicuramente la soluzione migliore per questo box e per tutti i box in generale un'altra cosa che volevo farvi vedere è che lui ha la funzionalità degli aggiornamenti ota e devo dire che è una funzionalità non scontata e che mmb cura con particolare bravura eccolo qua vedete ha il software aggiornato a luglio 25 siamo a settembre non è male ho visto che ancora più precisa negli aggiornamenti è apple pie i box dell'apple pie ma insomma non dice direi che non ci possiamo non ci possiamo assolutamente lamentare altra cosa che vorrei farvi vedere è youtube quindi adesso chiudo un attimo android auto che sta utilizzando che sta utilizzando la rete wifi e poi vi avvio youtube ecco qui ho messo un video youtube vedete il video si vede bene lo sta restringendo non è non è colpa del box ma è proprio fatto così il video infatti vedete qua c'è la c'è la descrizione del canale il youtube si vede bene si vede anche in movimento mi raccomando però che a guardarlo siano i passeggeri e non siano chi guida perché se no la cosa diventa pericolosa però con questo box vi potete vedere tranquillamente youtube in movimento ok adesso un'altra cosa che vi voglio far vedere e che potete fare con questo box è riprodurre musica e video presenti nella sd sì perché io ho inserito una sd ho li presenti dei dei video e della musica vediamo insieme come li riproduce andiamo a farlo in diretta insieme ecco qua vlc è sempre una buona scelta ecco qua partito subito e si vede bene questo video un crash test ma voi potete mettere un film potete mettere quello che volete e lo potete riprodurre anche in movimento anche in questo caso mi raccomando a farlo sia il passeggero e non chi guida stesso discorso per la musica se voi avete come nel mio caso della musica nella sd la potete riprodurre potete mettere la musica nella sd e ascoltarla in auto quindi amici possiamo andare già alle conclusioni mmb max 4.0 è praticamente identico a mmb 5.0 la cosa assurda è che costano lo stesso prezzo quindi a parità di prezzo io comprerei il 5 quantomeno ha il processore leggermente più performante in teoria avrà un supporto software più a lungo quindi a parità di prezzo prendete il 5 ma se giustamente trovate su amazon o su aliexpress il 4.0 ad un prezzo inferiore a mio parere è la scelta la scelta più sensata perché hardware è lo stesso le prestazioni sono le stesse quindi ha più senso in quel caso comprare il 4.0 non so se mi sono non so se mi sono spiegato sono praticamente identici comprate quello che costa meno allora direi che abbiamo visto quasi tutto ci possiamo salutare e ci vediamo presto con un nuovo video qui sul sul canale mi raccomando se avete delle domande fatele nel box dei commenti e ciao a tutti